Perché, diciamo che da quando è arrivato sto odioso, che lo chiamo così ormai Master TNT, il griefer Esatto, la coppia tutta che ti paga Fammi immaginare, ti ha rimpiazzato e l'ignoto non ti dà più importanza, vero? E ti tratta anche male, ti sfrutta Sì, mi tratta proprio... no, volevo dire una parolaccia, mi tratta malissimo Ok, ma di brutto Che stre voglia dire le parolacce vuol dire che è veramente grave la situazione È una cosa grave, esatto, non bisogna farle passare in mano Vengo insultato, vengo sfrattato da qualsiasi cosa Ho sempre fatto aiutato, cioè ero io a momenti che tenevo in piedi Sì, è vero, gli assalti li lanciavi tu, eri sempre davanti Che schifo E poi da un giorno all'altro lo schifo, non fa più niente, non si merita più nulla Tutti i materiali che ho sempre preso, zero, sparito, no, chi se ne frega Tanto se li pigliava da solo E per tutti Ho capito No, no, sono... beh, allora, effettivamente è una cosa piuttosto che indigna, eh, perché lui era l'unico che ci...